Il Paradiso, anticipazioni 9 febbraio, accetta Barbieri al Circolo. Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la sov del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda giovedì 9 febbraio svelano che non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati su Marcello, il quale non mancherà di riservare sorprese piuttosto interessanti. Vittorio e Matilde, invece, si riavvicineranno molto, trascorrendo del tempo insieme. La puntata del Paradiso delle Signore che andrà in onda il 9 febbraio saranno un poco spazio al personaggio di Marcello. Il giovane Barbieri sta movimentando le trame con i suoi successi professionali e non solo. L'ex barista, infatti, da piccolo imprenditore quale era, pare essere diventato un affermato uomo d'affari. Tutto grazie alle sue capacità, ma anche grazie all'aiuto e sostegno di Adelaide. La quale, colpita dall'animo del ragazzo, ha fatto emergere il suo lato più umano. Le anticipazioni relative alla puntata del 9 febbraio svelano che Marcello confiderà all'amico Salvatore tutti i dettagli della serata al circolo. A quanto pare il discorso da lui tenuto ha colpito molto i soci. Dunque la puntata del Paradiso delle Signore del 9 febbraio proseguirà con la narrazione della storiline di Marcello. Il discorso di Barbieri piacerà molto ai soci, tuttavia l'ultima parola spetterà proprio a Ludovica. La giovane Brancia, conoscendo il suo ex, non potrà fare a meno di esprimere il suo parere positivo. Marcello, quindi, diventerà nuovo socio del circolo. Tuttavia Guarnieri, geloso dell'astro nascente, interverrà, inserendo una clausola. Umberto chiederà che, come tutti gli altri soci, Barbieri rispetti un periodo di prova. Nel corso della puntata del Paradiso delle Signore del 9 febbraio ci sarà spazio anche per altre storiline tra cui quella di Gloria ed Ezio. I due ex consorti hanno, di fatti, scelto di diventare soci in una nuova attività che risulta essere il sogno di Ezio. Tuttavia, seppur involontariamente Colombo e Muro finiranno per far infervorare Umberto Guarnieri. La motivazione è più semplice di quanto sembri, le operaglie della ditta Palmieri potrebbero preferire andare a lavorare con Colombo. Ezio e Gloria, però, conoscendo il carattere di Umberto, converranno che sia meglio non pestargli i piedi. Cercando di non intaccare la sua attività. Le anticipazioni della puntata del Paradiso delle Signore del 9 febbraio rivelano che dopo un allontanamento momentaneo, Vittorio e Matilde avranno modo di riavvicinarsi. La donna deciderà di aiutare Conti nel suo lavoro di pubblicitario. I due, dunque, trascorreranno molto tempo insieme. Tuttavia la signora Frigerio, per aiutare Vittorio, finirà per dimenticare un impegno concordato con il marito. Si poate-ti dau totul peste cap Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă-mbrac la costum, Poate nu-mi spun minciuni, Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun. Știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a luvit până acum de fel de fel de oameni de păreri, Enti pur de caracteri. Și văd cum unii stau degeaba frate sunt mulți, Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, Oameni care vor să ajungă tot mai spus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.